Tutto mazzo dopo Top 8, Elio contro Cirno Ehi Basta, su Rialzare Ehi Beh, alziamo Ma gli altri, oh Vede, ok Noi eravamo qua Siamo posto Ma basta Dai, stai fermo, questo è l'altro Mi sto annoiando o il cazzo girato Presque le tue 5, cara Non sei E tiriamo il dado Quale vuoi tirare? Dopo, pianeria Ma è che quando vuoi Cambio Cambio una Io vorrei che tu pervessi Perché si giocava su il giro E poi vorrei che tu vincessi Perché dall'altra parte Ma cosa vuoi? Posso? No, ma ora c'è tutta la giro San Montana E' un gialloneo 3, 2, 2, 3, 2, 2 Dai Non iniziamo a trassare No, no Non è passato Dai, veniamo entrambi dai Lui, lo capisco Però 50 per la tua ma lo c'è male prima tipo uffi 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 buona bello uffi uffi perchè non è che arriva l'fbi a casa tua e vede che sto qua ti ha detto che sei scemo la guida è una volta di coglioni ma non lo sa che cos'è bravo cazzine sono gente che sono la scuola benchita benchita non rispondere per me e marina io sto gli andando un'ose io sto andando tanto a 1.5 quando ho scarto tutto no quando entra pago 1 riprendo gagne tutti i suoi amicoli stasera ci si diverte i fatti da 1 cosa torneri guarda che abbiamo chiuso tipo tu 0-4 io 1-3 ah ma almeno un mese fa almeno tanto Leo il piede è che i mazzi porti più comunque non giocare la cazzo non giocare niente che ti mazzi non giocare niente è il compromesso cos'hai ripreso la combo climax la combo climax la combo climax pago 1 quando attacca troppo 1-4 2 2 2 aspetta aspetta un secondo aspetta un secondo pronto 1 2 2 lo sta andando bene dai e dipende quanto vado avanti fai anche 2 ciao ciao ah ma riprendo scherzando sono le 5 3 quanti fa 2 2 non sto imparando sei volato nel diabo perché sei svegliato perché sei svegliato quando dici voglio andare a casa ecco adesso devo dire quello che vuole è buono per provarsi per procedire ma è fatica cos'è panno scato tutto o vecchi culone no no scato e come vai? perché è vecchia è male vecchia nooo e scato le oh cos'è tutore che tratto tutore tutore music l'importante che possa tutto tutto smazza tutto ma lei è scima cazzo quanto di mezzo? sei e mezzo no cinque e mezzo lei può andare al centro lei può andare al centro lei va andare al centro è quella che dà più livello davanti? no scatto 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 giro la prima se il climax si rimescola più livello più 500 quello davanti scatto 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 lei cos'è che dice ranna al centro? ranna al centro ranna al centro che ho lancivo ragazzo bello bravo scatto scatto tre quattro scatto scatto C'è il mio? I migliori sono quelli che li fanno a tre Io avevo un po' di mangiare Sai cos'è la cosa? Si incontro al combo, come fai che mi girai? Eeeh... Ahhhh, everyone getting here! Boom 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 boom! Si si, esce il fort vuoto Come si può fare come everyone getting here? Gioco, intenta quelli inzolto Gioco, gioco Weirwind Gioco, come stanno andando? Farò il goal Io ho Un po' di rimasto ci dovessi Stato con ogni personaggio Spicci da adesso No, ma adesso è perdi Sai cosa si gioca contro Red Steel It must be Must be special Qualche persona diventamente maggi Io per esempio Avrò un altro po' Se c'è gente che ce l'hanno muore verso Quanto sei? Quanto sei? Sei, due, sei Come prendono più mille e cinque? Più mille se controlla almeno tre pezzi 500 globali Sono in presenza Ma per te li ancora da Ciro, tu mi devi del denaro tra l'altro Più tanti mi fai Le carte che c'è su con G Ah! Teo, io ti devo i soldi dei due bichi di G C'è un i bichi di G ti devo L'altra te la paga a Cava Pitti Sono due serie diverse Io te la devo solo di una Perché l'altra te li deve Cava Se l'avessi già messi da qui Attiva Resto ripetibile Passa di 2.000 per ogni climax Resto ripetibile 2.000 per ogni climax Il vuoto tale è 10 euro E fai che 6 euro ti diventava E non lo so, non so i prezzi Sì ci sta Non lo so vado a vedere dopo Dai ma che cazzo tiri P2 su Dai ma che cazzo tiri P2 su Ma porca troi Mi giro un attimo Dai 4 No Dai ora è il tempo del triple cancel Dosso Un attimo Noi dobbiamo sistemarci anche noi Per le cose che hai fatto ordinare Daniele Ah si si Tacco 3 gialli 5 meno Caccio che io a fai Ci prendiamo 2.000 E quando io entro E quando io entro P3 ma 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 Stasero P3 ma P5 ma P3 ma P3 ma P3 ma P3 ma Bocco Vediamo se entra stavolta Porto avanti Quanto è? 5.5 5.5 D-Max 1.1 Vado front Da 2-3 Toro Alto Bene Cos'è anti-change? Sì Cazzo Cazzo Vado front da 4 Erano entrambi niente finché Cazzo Separito? E' dubbio 3 Che ruolo Che non mi faccia mai cambiare idea sulla gente Sulle cose Sulla gente Sulla gente Neanch'io metto i capelli nei lavandini C'è c'è adesso ci fai con i capelli nei lavandini? Come ci arrivano adesso? E beh io per rimbotto i capelli Sì ma non li vai a buttare nel lavandino? Grazie a cazzo La mia camera è piena di miei capelli Quella cosa fa? Quella è la camera di qualsiasi persona Cosa fa? Nei tuoi capelli Le seghe Ah no aspetta queste qua Mazza Non lo so Quanti Sotto questo sole E due coglioni E Aia scemo Violenza Charge Squalificalo You will be judge E ti avviso e senti da un scemo che urla a cazzo judge Cazzi suono Guarda che ti tira una scudata E' vero funziona così E se è sciamo nero e me Da bene non mi uccidi Io non ti uccido Quanto sei? Nessuno uccide nessuno Sì esatto Quanto sei? Undici e mezzo Sei e mezzo Sei e mezzo Sei e mezzo Livello due Livello tre 25% Anche io Anche io Wow Cazzo Cazzo Quanto sei e mezzo Quanto sei e mezzo? Sette e cinque Ma presenti il Come si chiama? Il cartone arrivato di I livelli tre avevi? Sono i due gentle Che ho in francese Tsugumi Kura Taigei Non Irrisambon Irrisambon Pari sui pezzi Ah ok Sky difensivo Taigei Questi due gentlemen e... 10.000 vanilla fugga Sono io e il pvp Do più 1.000 qua, mischia Rene tra gli 3 Sono 3 C'è un sacco di stand C'è un sacco di fuori Ma sono... Sono 7 e mezzo Ma adesso sono 7 e 8 Lei cosa fa in mezzo? Niente, è clock in core Tappo due pezzi e prendo i 2.500 Va bene Sono 3 Quanto 6 su 2.000? Sono 4 Pago 1 Pack up 2.500 Passo più 1.000 Sono 4 Ma sono 8 e mezzo adesso Eh? 5,7 e mezzo 8 e mezzo si 1,2,3,4 La smetti di trincare anche la morte Ho 20 trigger in sto Eh si ho capito Anzi forse anche di più Sai chi è più trigger di te? Chi è? Luca C'è ancora il mio dato? Va bene Posso? Luca ti vogliamo bene Se guarderai questo video Rocco Va bene? Anche quella con le banana cioccolante Pago 2 Cazzo? Sì Quanto 6 e mezzo Stavo tenendo la spesa 5.000 Clock in core Va bene Sono 4 4 separi 2 4 4 Va bene Vado fronte da 2 3 Tutto ora Penso se ancora 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 Un po' quanto Ancora Ancora Un po' ancora più forte Vado con un Lazaro Un po' ancora più forte Un po' ancora più forte Un po' anche certo Un po' ancora più forte Un po' ancora più forte Il tipo Un po' anche Sì Ma no Luca ha detto a me Ci sta Ah uno lo toglie a te insomma Chissà Scemo Quanto sono di power? Aspetta 12 Livello 4 6 e mezzo 11 e mezzo 12 6 e mezzo 11 e mezzo Gioco gli eventi backup 2 1-4000 che hai visto Lo so Lo so che ci sono Sto pensando se riesco anche a level up Scasso Leader Che se gli elementi stock La best del V Eeeh Cosa che mi hanno visto? Il V Il V Il V Il V Il V Interessante Il V Il V Il V Il V 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. È intergettabile. È intergettabile per cosa? Sul freddo? Te l'ho detto prima. Ti faccio dire una mano a me Eh ma te ne ho pescato Quanti due Passo più mille Qua sono i dodici e cinque No dodici Tu? Sono due Ne avevo due Poi ne avevo altri due E l'altro là dentro Ah quando hai detto non è possibile Hai pescato due clima di clock Bella si gioca a skill Ma è la prima volta che ho battuto il tuo mazzo Anzi forse è la prima volta che ti ho battuto a te Si Però almeno ho fatto E ho giocato mai Almeno cinque No è vero Si ma non gioco sto mazzo No sei tu che non ci sei mai Non so neanche oggi Non è giusto Non è giusto